Ben trovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnelle, potreste conoscermi già per altri podcast come Estelle e Strisce o come Inverno Nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giacquinto, narratore, fumettista e autore del podcast Storie Alternative. Prima di iniziare, come sempre, noi salutiamo la nostra community, la nostra seconda famiglia di Telegram. Ragazzi, siamo tornati a crescere, siamo tornati più forti di prima e vi facciamo un culo così, quindi mi raccomando a tutti quelli che ci stanno ascoltando, e lo so perché siete migliaia, siete decine di migliaia ogni settimana, quindi vi vedo. A tutti voi che ci state ascoltando, state pensando da mesi, qualcuno anche da anni, ma cosa sarà questo gruppo di Telegram? Cosa sarà quest'app di Telegram? Non è altro che un WhatsApp, ma più bello, quindi scaricatevi l'app di Telegram e venite a trovarci sul nostro gruppo e conoscete la nostra community. E parlando di app che io vi consiglio di scaricare, ce n'è anche un'altra molto interessante che è l'app di Patreon, attraverso la quale potete sostenerci offrendoci un caffè al mese a un prezzo veramente modico e potete accedere a contenuti esclusivi oltre a quelli che pubblichiamo ogni settimana. Già perché alla fine di ogni puntata esce proprio sul nostro canale Patreon un episodio bonus con me, con Giacomo, con gli ospiti che ci vengono a trovare e quindi altro contenuto da divorare per voi, altri minuti, altre mezz'ore di nostre conversazioni, di non spegnere la luce, quindi venite a trovarci anche su Patreon, trovate il link come sempre nella descrizione di questo episodio. Ma adesso bando alle ciance perché restando in tema di community questa settimana abbiamo un ospite, un'altra ospite nuova, nuova di Zecca, un ospite che siamo riusciti a conoscere proprio grazie alla nostra community su Telegram. Sto parlando di Elena Pepponi, linguista, assegnista di ricerca universitaria ma soprattutto nipote di un partigiano italiano. Ciao Elena e grazie per essere di nuovo, anzi per essere per la prima volta qui con noi. Ciao Giacomo, ciao Michele e grazie mille per l'invito. Sono passata da essere una vostra devota ascoltatrice a essere co-protagonista della puntata e questo mi fa molto piacere e spero che insomma la storia che vi racconterò vi piacerà saluto anche tutta la meravigliosa community della quale faccio parte. Grazie a te Elena per essere con noi alla vigilia di un giorno che ci sta molto a cuore e come vedete noi conosciamo persone veramente straordinarie attraverso il nostro gruppo Telegram e ci tengo appunto a ringraziare ancora una volta Elena per essersi proposta per questa puntata perché altrimenti non avremmo mai saputo che è nipote di un partigiano italiano. E allora tornando a questa giornata, questo 25 aprile che ci sta così a cuore, abbiamo deciso di dedicargli un'intera puntata per ricordarvi che non si tratta semplicemente di una data in rosso sui vostri calendari, ma di qualcosa di più. Già perché il 25 aprile del 1945 la resistenza italiana, che poteva ormai contare più di 200.000 uomini, dichiarò ufficialmente l'insurrezione nazionale contro l'occupazione nazifascista. Da allora ogni anno in varie città d'Italia, dal nord a sud, il 25 aprile vengono organizzate manifestazioni pubbliche in memoria della liberazione. Si tratta di un giorno simbolico, scelto perché in questa data cominciò la ritirata dei tedeschi e dei soldati della Repubblica di Salò dalle città di Milano e di Torino, in seguito allo sfondamento della cosiddetta linea gotica da parte degli alleati e all'azione della resistenza. E allora quello che vogliamo chiederci in questa puntata è chi erano davvero i partigiani, ovvero i protagonisti di quella guerra civile. E per scoprirlo, come sempre, facciamo un passo indietro e proviamo a ricostruire la storia breve della resistenza italiana assieme al nostro caro Giacomo Giacquinto. Ciao Michele, ciao Elena, ciao a tutti gli amici, gli amiche e gli amici di non spegnere la luce anche da parte mia. Ben ritrovati, come al solito siete tantissimi, siamo tornati a superare i novecento, quel giorno io e Michele abbiamo stappato, quindi se in giro per l'Italia vedete una serie di bottiglie sappiate che la colpa è proprio mia e del mio carissimo host. Allora, e beh qui si apre un meraviglioso dibattito, sempre perché a noi piace rischiare, sempre perché Michele è pazzo, questa è una cosa che oramai ribadisco di puntata in puntata, si parla di eutanasia, si parla di aborto, si parla di femminicidi. Ovviamente non poteva che arrivare la puntata politica italiana, dedicata a partigiani. Sappiamo che Elena è una nipote di un partigiano, ma anch'io sono un nipote di partigiano, quindi Elena scopa, direbbero, avrebbero detto i nostri nonni, o almeno mio nonno lo avrebbe detto sicuramente, ed è a lui che dedico questa puntata, un po' come tu la dedichi al tuo parente che ha tanto lottato. Entrambi i nipoti di partigiani e quindi entrambi i nipoti di tutta quella parte dedicata al mondo anziano fatta di storie, e non con accezione negativa assolutamente, ma con l'accezione del racconto che pervade il tempo, che supera il tempo, di un racconto che rimane nonostante tanti anni, di un ricordo che diventa una festa, che diventa una data, una data che diventa a sua volta un insieme di storie. E non è questa la cosa più bella dei racconti. Il 25 aprile Michele ha detto una frase bellissima, una frase che se fosse all'interno di un romanzo ci permetterebbe di intuire immediatamente il senso di tutta la narrazione. Non è semplicemente una data cerchiata in rosso o segnata in rosso, è una data che in quel rosso si identifica la sua violenza, ma anche la sua passione. Perché vedete, secondo la cromoterapia, il rosso non solo è un colore che stimola i ricettori ad aumentare la propria base creativa, ed è per questo che per esempio grandi artisti come l'argentino Lucio Fontana utilizzava molto il rosso nei famosi tagli nelle tele, ma il rosso permette anche di essere associato grazie all'importanza del linguaggio, come sapete spesso anche sul gruppo Telegram parliamo dell'importanza del linguaggio. Viene associato anche alle musiche che entrano nella testa e ci ricordano qualcosa, e quindi questa canzone che cosa vi ricorda? Questa mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questa mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Vedete, molti credono che sia questa la base dei partigiani, è sbagliato, sfatiamo subito un mito. Pensate che anche coloro che negli anni hanno reso bella ciao celebre sono certi tutti di una cosa, che la prima canzone, la prima pubblicazione di questo testo sia in realtà del 1953 e che sembra che nessun partigiano l'abbia mai cantata prima. Non ci sono indizi che portino alla presenza di bella ciao nel famoso storico delle canzoni dei partigiani, del canzoniere di Pasolini per esempio. Luigi Morrone che ha scritto la vera storia di bella ciao ha detto è una canzone della resistenza, della giovinezza, canzone del ventennio fascista nell'una e l'altra, nate dai partigiani o dai fascisti. L'una presa in prestito da un canto d'alma, dall'altra dalla gogliardia a Toscani e negli anni è diventata l'inno ufficiale dell'Italia antifascista e di quella del regime antimussoliniano. Nei venti mesi della guerra partigiana non ho mai sentito cantare bella ciao che è stata un'invenzione del festival di Spoleto. Eppure questa canzone ci ricorda di tutti quei partigiani che hanno lottato per qualcosa, l'associamo alla lotta, anche per le sue parole che riprenderemo piano piano. Parole che cominciano con questa storia. Hola, hola Siro, vieni a chi? Quello che sta parlando è un Veneto che si chiama Emilio. Emilio sta chiamando un suo compagno, anche lui antifascista, uno che ha lottato e che ha visto morire suo fratello per colpa del fascismo. Il fratello si chiamava Luigi, mentre colui che viene chiamato si chiama Enzo che si avvicina al Veneto e gli dice, E già perché sono le tre del mattino ed entrambi stanno parlando. Fumano sigarette come se piovesse e scrivono le loro idee come faceva Giuseppe Ungaretti durante la prima, sui pacchetti di sigarette, su quello che trovano, su pezzi di carta. Allora Emilio gli dice, tu stai dormendo? Io volevo preparare quello che dovevamo fare domani. E il suo amico Enzo gli risponde, ma tu a che storia può fare queste cose, ma non li possiamo fare domani mattina. E no, perché domani mattina bisogna attaccare. Ed Emilio e ad Enzo si unisce un altro uomo, un uomo che è silenzioso, è sempre stato silenzioso, ma quando parla e ancora meglio quando urla entra automaticamente nella storia come se fosse un passaggio fondamentale della sua vita. Il suo nome è Sandro Pertini. Sandro Pertini lo ricordiamo per due grandissime cose. La prima è durante il Mundialito 1982, quando di fianco al console tedesco che è venuto a vedere la strepitosa finale firmata da Marco Tardelli rimane in silenzio e poi al terzo gol esplode e grida non ci prendono più, non ci prendono più. Quella carica, quel non ci prendono più, era diventato, era nato con un li prendiamo noi, quando? A Milano, quando proclama lo sciopero generale, 25 aprile 1945. Immaginatelo, non ci sono i consoli tedeschi vicino a lui, ma ci sono Emilio che è del Veneto e che è lì perché crede fermamente che l'Italia debba fondarsi su quello che è il popolo e non su quello che è il regime. Al suo fianco c'è Enzo che è un napoletano che ha visto morire suo fratello e abbracciandolo gli ha detto io lotterò sempre per un'Italia migliore. E allora Sandro li guarda tutti negli occhi, c'è per esempio la storia di Giacomo che è mio nonno che ascolta tutte quelle parole e capisce che deve lottare, parole che suonano così. Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine, come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma, il dilemma che diventerà ancora più di bella ciao la frase di quel periodo, arrendersi o perire. E immaginate Emilio, Enzo, Giacomo e sono tutti lì che stanno ascoltando. Emilio avrà guardato Enzo e gli avrà detto stanotte pensiamo al pian per domani e probabilmente Enzo avrà risposto voglio ma possiamo fare un po' con calma queste cose, a che storia proprio non ragiono. E probabilmente Giacomo l'avrà guardato e in barese gli avrà detto oh raga bisogna iniziare a lottare, a lottare per il nostro paese. Mentre Pertini da Milano continuava a chiamare questo sciopero grandioso. Questo sciopero che ha questa data così emblematica per noi italiani. Il 25 aprile 1945. Che cos'è questo giorno? È il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, il cui comando era a Milano e aveva una serie di presidenti, come si chiamavano allora, attenzione, non presidenti, presiedenti perché veniva preseduto dal popolo e da chi parlava per loro. Alfredo Pizzoni, c'era Emilio Sereni, c'era Leo Valiani, c'era per esempio il presidente designato che era Rodolfo Morandi, c'era Luigi Longo, soprattutto c'era Sandro Pertini che proclamò l'insurrezione generale in tutti i territori che erano ancora occupati dai nazi fascisti indicando alle forze partigiane attive, attenzione, nel nord Italia che facevano parte del corpo dei volontari della libertà di attaccare i presidi fascisti e tedeschi imponendo loro la resa giorni prima dell'arrivo delle truppe alleate. C'erano anche dei decreti perché questa non era solamente una situazione storica di resistenza, no, e dopo gli inizi diciamo un tantino burrascosi e disastrosi del movimento della resistenza italiana ad un certo punto avevano assunto il comando persone che di politica ne capivano tantissimo ma che soprattutto erano carismatiche per natura e quando diventi carismatico per natura? Quando soffri per informazione chiedete pure a Sandro Pertini. Attenzione, come vi dicevo c'erano dei decreti che facevano da contropeso e da controaltare a quella che era l'iniziativa nata il 25 aprile. Per esempio uno era relativo all'assunzione dei poteri da parte del comitato di liberazione delegato dal solo governo legale italiano in nome del popolo italiano e dei volontari della libertà. Ce n'era un altro relativo all'amministrazione della giustizia che era assolutamente il cart and call della storia di Mussolini e del fascismo perché stabiliva con il suo articolo 5 la condanna a morte per tutti i gerarchi fascisti anche se non veniva in alcun modo citato esplicitamente per lo meno Benito Mussolini che sarebbe stato catturato e fucilato tre giorni dopo. Questo è lo scenario dove comincia quella che è probabilmente un pezzo di storia italiana con più luci e ombre mentre da una parte festeggiamo dall'altra parte possiamo anche raccontare l'avvento della mala, della mala organizzata subito dopo le unioni partigiane. attenzione tutto questo che cosa porta e soprattutto da dove comincia? Tutto questo comincia sempre con l'importanza della resistenza italiana attraverso i nomi anche fittizi di coloro che hanno partecipato. Vedete l'inizio quando ancora prima di Sandro, ancora prima di Giacomo, ancora prima di Emilio, ancora prima di Enzo comincia con la resistenza che decide di occupare, di diciamo mandare a casa l'occupante tedesco, i fascisti della Repubblica Sociale. L'inizio è difficile, veramente difficile, ci sono degli errori di disorganizzazione e degli errori tattici perché tutti sono formati, i gruppi sono formati da soldati oramai in disuso, sono formati da volontari e nell'autunno del 1943 nelle vallate di montagne appenniniche alpine con degli ufficiali inferiori, c'erano vi dicevo dei volontari, comincia questo movimento partigiano di resistenza. Attenzione perché in seguito c'è una fondamentale funzione organizzativa che viene svolta proprio dai partiti politici antifascisti che venivano organizzati e poi riuniti sotto un'unica bandiera, proprio quella del CLN, Comitati di Liberazione Nazionale, che sorsero ovviamente nelle principali città dell'Italia occupata. Attenzione, il movimento partigiano che aveva le sue radici in montagna, perché solo guardando un buon orizzonte puoi sperare che il tuo sa migliore, crebbe da poche migliaia nell'autunno del 1943, scusatemi, a circa 50.000 nel giugno e luglio del 1944, quando venne costituito un vero e proprio comando centrale, un comando che avesse funzioni pratiche piuttosto che teoriche, ovvero il corpo volontari della libertà e vennero create per la prima volta le divisioni partigiane, ma soprattutto le brigate partigiane, nome che ancora oggi tra libri di storie, antologia, documentari, sentite tantissimo. E intanto in sottofondo, volendo non distruggere una bella storia con la verità, si sente ancora la eco di una canzone, una canzone che dice E se muoio da partigiano tu mi devi seppellir. E quel canto continua, continua ancora e ancora e si eleva sempre di più, diventa sempre più forte, grazie al corpo dei volontari della libertà, grazie alle brigate e alle divisioni. Vengono escluse le formazioni autonome, che in realtà erano composte in prevalenza da militari del reggio esercito, che però era disciolto. Generalmente avevano delle affiliazioni monarchiche oppure apolitiche, mentre diciamo che il gruppo di liberazione aveva un'idea politica ben precisa, ovvero antifascismo su larga scala. La maggior parte però dei reparti dipendeva da partiti politici antifascisti. Quasi la metà dei combattenti erano organizzati dalle brigate garibaldi del partito comunista italiano, mentre 15.000 di coloro che facevano parte combattevano nelle brigate giustizia e libertà del partito d'azione. Contemporaneamente a tutto questo i comunisti decidono di costituire nelle grandi città occupate i gruppi di azione patriotica, i GAP. E attenzione, molti credono nell'Inghilterra attuale che proprio il termine mind gap, proprio quel GAP derivi da questo, cioè da un'azione che può essere o sconsiderata o straordinaria, ovvero quelle azioni che poi negli anni hanno ispirato la teoria della relatività di Einstein, che con numerosi attacchi terroristici, perché questa diciamo è una delle parti di ombra delle brigate e dei partigiani, e quadri di comando e gli apparenti repressivi minarono il morale dei nazifascisti, quindi il loro compito era aprire la strada creando un diversivo, esattamente come fanno i prestigiatori. La presenza di italiani armati su entrambi i fronti del conflitto, malgrado la popolazione si tenesse in disparte, determinò lo svilupparsi di una vera e propria guerra civile, perché i tedeschi supportati dai fascisti organizzarono delle operazioni di rastrellamento che costarono grandissime perdite ai partigiani e soprattutto, e questo sì che è grave perché in guerra sono più importanti i feriti che i morti, indebolirono le loro capacità operative, senza però tuttavia riuscire ad annientarli per sempre, e questo sarà un problema. L'azione tedesca e fascista venne caratterizzata anche con delle operazioni di rappresaglia davvero spietate, ci furono anche diverse situazioni di repressione nei confronti dei civili e presunti avversari come l'eccidio delle fosse ardiatine a Roma e la strage di Marzabotto, momenti che alimentarono quel senso che Bella Ciao racconta così bene. Dopo i successi dell'estate del 1944, le sconfitte dell'autunno provocate dalle operazioni nazifasciste e di guerra alle bande, e soprattutto dopo il proclama Alexander del 13 novembre del 1944 che sollecitava i partigiani a sospendere le azioni e a rimanere in difesa durante l'inverno, provocarono una crisi, un indebolimento numerico della resistenza, ma nella primavera del 1945 circa 60.000 partigiani attivi scesero dalle montagne, come i nani, non so se avete mai visto il Signore degli Anelli, l'ultimo il ritorno del re quando arrivano, scusatemi, durante la battaglia delle armate quando arrivano i nani dalle montagne, eccoli qua, e rafforzati da nuovi combattenti che erano arrivati nelle ultime settimane, combattenti che arrivavano anche da veri e propri esercizi militari, quindi che erano abituati alla lotta, svolsero un ruolo di primo piano nei giorni della famosa liberazione. Attenzione perché questo è lo scenario, uno scenario che va costantemente a mutare, perché entro il primo maggio tutta l'Italia settentrionale venne liberata, Bologna 21 aprile, Genova 23 aprile, Venezia 28 aprile. E quando sono a Venezia e c'è Emilio che guarda Enzo e gli dice, hai visto? Siamo a casa, siamo a casa adesso, siamo a casa. Ed Enzo che lo guarda gli rispondo, voglio ma qua a casa, stiamo a Venezia, finché arriva a casa ci vuole una vita. Perché fra di loro è nato quel rapporto che poi negli anni verrà chiamato rapporto di cameratismo ma nella sua base migliore, ovvero quella per cui qualcuno lotta per la propria libertà e qualcuno a fianco ti dà una mano. La liberazione mette così fine all'occupazione tedesca dopo vent'anni di dittatura fascista e cinque anni di guerra. Il 25 aprile rappresenta ovviamente simbolicamente perché i simboli a volte sono più importanti dei giorni, perché la storia dimentica i giorni ma mai i simboli. Rappresenta il culmine di una fase militare che a un certo punto era diventata più organizzata addirittura di Mussolini che tanto aveva perso tutto il potere possibile e l'avvio effettivo di una fase di governo da parte dei suoi rappresentanti perché se hai una buona forza militare ti garantisco che a un certo punto avrai anche una grande forza politica che porta un referendum a uno dei momenti più importanti della storia italiana. Il 2 giugno 1946 per la scelta fra monarchia e repubblica e successivamente alla nascita della Repubblica Italiana fino al testo più importante nel bene o nel male, ve lo garantisco, per la Repubblica Italiana, la Costituzione. Il termine della guerra con la resa definitiva delle forze nazifasciste avviene però diciamo nella maniera meno formale il 2 maggio come stabilito dai rappresentanti delle forze in campo durante la famosa resa di Caserta che venne firmata il 29 aprile del 45. Queste date segneranno un futuro storico quello della sconfitta al fascismo. Attenzione c'è un'immagine che è rimasta impressa perché la storia oltre i simboli non dimentica nemmeno le immagini un'immagine recente di solo due anni fa 25 aprile 2022. C'è la deposizione della corona da loro davanti al milite ignoto. Qualcuno in prima fila piange. Qualcuno guarda quel simbolo ancora una volta un simbolo e piange e a bassa voce senza quasi farsi sentire inizia a canticchiare una canzone, una canzone che gli hanno insegnato che dice e se muoio da partigiano o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao. E coloro che la stanno cantando sono nipoti sono il nipote di Emilio sono il nipote di Enzo sono il nipote di Giacomo perché la storia attraverso la voce e i simboli ci insegna una cosa che la libertà te la devi conquistare. E allora ringrazio il nostro Giacomo per questa bellissima narrazione e adesso torno però dalla nostra ospite perché come detto in apertura Elena è la nipote di un partigiano che anche lui ha combattuto nella resistenza italiana. E allora con lei vorrei ripartire proprio da qui chiedendole di raccontarci senza briglie, a briglie sciolte chi era suo nonno e qual è stata la sua esperienza da partigiano. Grazie Giacomo intanto per la bellissima parte introduttiva e grazie Michele. Allora io oggi vorrei provare a raccontarvi quella che mi piace chiamare una storia con la S minuscola perché è la storia di una persona qualsiasi, di un ragazzo, di una persona comune che però in più punti prende per mano la storia con la S maiuscola e fanno un tratto di strada insieme mettiamola così. Allora questo ragazzo che si chiamava Angelo ma in realtà che chiameremo Lino perché è il soprannome diciamo con il quale si è riconosciuto per tutta la vita ovvero mio nonno nasce a Roma in un imprecisato giorno tra Natale e l'ultimo dell'anno del 1924 e nasce in una famiglia che poi alla fine avrà in totale otto figli, quattro maschi e quattro femmine, Renato, Ennio, Lino che era il terzo, Andreina, Franco, Luigina, Maria e Anna. Le mie zie Maria e Anna sono ancora vive quindi sicuramente sentiranno questa puntata quindi vi farà piacere sapere che insomma la sto raccontando e nasce in via Carlo Felice che per chi non dovesse essere pratico di Roma è una via che collega San Giovanni il laterano con Santa Croce in Gerusalemme e Porta Maggiore quindi che corre lungo le mura quindi sostanzialmente era la fine di Roma perché c'erano le mura e dopo c'era poco altro e poi iniziavano quasi subito le campagne. Oggi è centro storico, considerate questo. Dicevo che nasce in un imprecisato giorno perché all'epoca si nasceva in casa e qui si verifica la prima grande sliding door della sua vita come mi piace chiamarla a me nel senso che suo padre primo decide di non andarlo a registrare all'anagrafe fino al primo gennaio del 1925 quindi sostanzialmente lui era nato tra Natale e l'ultimo dell'anno del 24 e viene registrato il primo gennaio del 25 e gli regala un anno in più e lì per lì sembra una cosa così una stupidata tutto sommato ma invece sarà appunto la prima grande sliding door della sua vita questa famiglia poi si sposta un po' più in là quindi a vivere fuori le mura ma sempre il quartiere diciamo San Giovanni a più latino e qui Lino e i suoi fratelli e le sue sorelle passano l'infanzia e fanno le scuole e Lino fa molta amicizia nel periodo delle scuole con un ragazzo che si chiamava Marcello e questa amicizia durerà anche dopo da adulti anche se avranno due stili di vita molto diversi e anche se Marcello sarà molto molto più famoso di Lino perché la storia di Lino ve la sto raccontando adesso invece la storia di Marcello è molto più nota e disponibile da conoscere visto che di cognome faceva Mastroianni quindi diciamo che è un Marcello un po' diverso dagli altri poi cosa succede? Succede che il 10 giugno del 1940 Benito Mussolini si affaccia al balcone di Palazzo Venezia e decide di dichiarare guerra alle cosiddette democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente e per dichiarare questa guerra fa la leva sui ragazzi e decide di fare leva fino al 1924 quindi vedete che la sliding door regalata da papà primo che decide di registrarti nel 1925 in questo caso ti grazia perché forse se l'avesse registrato al giorno giusto questa puntata del podcast non ci sarebbe stata perché magari non ci sarebbe stato mio padre e quindi di conseguenza non ci sarei stata io quindi Lino non deve partire per la guerra rimane a Roma frequentava quello che oggi chiameremmo l'ITIS all'epoca si chiamava avviamento al lavoro una scuola tecnico professionale sostanzialmente e si diploma sotto le bombe perché poi Roma insomma subisce bombardamenti e mentre è ancora un ragazzo che appunto fa ancora le scuole ha fratelli e sorelle più piccole i più grandi sono partiti per la guerra e quindi lui diciamo è il maschio più grande che è rimasto poi sono rimaste quattro femmine e un maschio più piccolo di lui quindi deve in qualche modo aiutare la famiglia e fa dei lavoretti strani ad esempio cerca di vendere delle sigarette di contrabbando mi raccontava quando ero piccola che con un suo amico aveva costruito un bastoncino con una punta in cima e raccoglievano mozziconi di sigaretta da per terra li aprivano e toglievano il tabacco avanzato e facevano nuove sigarette con quel tabacco e poi le andava a vendere a Isola dell'Iri che è un paese bellissimo che sta in provincia di Frosinone ma che dista tipo 100 chilometri da Roma e lui se li faceva in giornata con la bicicletta con una bicicletta dell'epoca che sarà stata poco più di un cancello con le ruote ma si sa che all'epoca avevano dei fisici che oggi non producono più hanno buttato via lo stampo e poi andava anche sempre con la sua affidata bicicletta si recava anche in montagna della provincia di Rieti dove c'era la famiglia di sua mamma che era originaria di questo paesino che sta diciamo più o meno vicino ad Amatrice antrodoco questi paesi qua che si chiama Canetra e cercava di andarsi a far dare qualcosa da mangiare dai parenti della mamma che a volte gli davano un po' di farina da riportare a Roma sempre in bicicletta qualche uovo eccetera c'è un aneddoto divertente perché una volta mi ha raccontato che era arrivato così stanco che la zia gli aveva dato un po' di castagna e lui se le era messe in tasca da mangiare durante il viaggio di ritorno e solo che mentre pedalava prima ha avuto un colpo di sonno ed è caduto dalla bicicletta quindi insomma non si è fatto benissimo poi ha dovuto guadare un fiume portando in braccio la bicicletta e le castagne che aveva in tasca gli si sono bagnate tutte quindi un viaggio disastroso questo vi fa capire perché mio nonno è campato fino a 97 anni senza nessuna malattia con un cuore perfetto perché appunto l'esercizio fatto in gioventù di guadare il fiume con una bicicletta in braccio e anche il triatron poi cosa succede? succede che nel 44 a 19 anni quindi diplomato trova un piccolo lavoro a Roma come impiegatuccio così un po' una sorta di contabilità diciamo però qui c'è la seconda sliding door della sua vita perché tornando da lavoro una sera gli succede una cosa normalissima in tempi diciamo di pace ma che in tempi di guerra può causare più di un problema cioè perde il bus perde il bus e quindi non sapendo come tornare a casa diversamente si incammina a piedi solo che è il 44 è il centro di Roma c'è già stato l'attentato di via Rasella lui non lavora troppo distante da quelle zone ed è un ragazzo alto bello, piazzato e muscoloso che gira da solo di notte quindi capite che la cosa si mette già male perciò finisce in una retata perché è fuori dopo l'ora del coprifuoco è in giro è un maschio è prestante, è giovane e quindi è pericoloso e finisce in una retata questa retata lo catturano le camionette dei tedeschi e lo portano alla batteria Nomentana che è una caserma che sta a Roma sulla omonima via Nomentana dove tutti quelli che sono stati piccati fuori dopo l'ora del coprifuoco e diciamo così che sono potenzialmente pericolosi vengono tenuti per la notte e vengono anche valutati perché in quel momento sono in arresto e possono servire possono servire per essere mandati a combattere per la Repubblica di Salò ricordiamo il 44 quindi c'è già stato l'armistizio di Cassibire del 43 c'è già stata l'occupazione nazifascista e Mussolini è ritirato nella Repubblica di Salò possono servire per questo ma possono servire anche per andare come prigionieri e lavorare come schiavi in Germania quindi devono essere valutati nella salute fisica e diciamo così nella prestanza fisica da un gerarca fascista che però è in ritardo quindi vengono tenuti tutti quanti in questa stanza quando arriva il gerarca fascista Lino è già sicuro di passare a pieni voti la valutazione di essere spedito in Germania o nella Repubblica di Salò se nonché si apre la porta entra questo questo pezzo grosso fascista e questo pezzo grosso fascista altro non era che il suo professore di matematica dell'ITIS ricordiamolo a questa epoca aveva solo 19 anni quindi si era diplomato solo un anno prima quindi il suo professore se lo ricordava bene e se lo ricordava bene anche perché lui teneva sempre una pallina di carta nella tasca dei pantaloni tanto che li sformava tutti e il suo professore l'aveva soprannominato in romano er palletta cioè il pallina forse credo che la tirasse addosso alla gente per disturbare questa palletta non saprei comunque il suo professore fa la valutazione come se niente fosse e lo sceglie tra quelli che devono partire quando però sta per andarsene via riesce a sussurrargli in qualche modo di gettarsi dalla finestra del terzo piano gli indica una finestra specifica a mezzanotte perché gli dice che sotto quella finestra si raccoglie tutta la spazzatura della caserma il giorno dopo verrà l'addetto a ritirarla e portarla al deposito della spazzatura ovviamente Lino non sa se fidarsi perché da una parte è il suo professore ma dall'altra comunque è un gerarca fascista ho dimenticato di dire che Lino proviene da una famiglia antifascista naturalmente quindi non sa se fidarsi però meglio che andare in Germania sarà a dormire una notte nella spazzatura e quindi decide di fidarsi buttarsi dalla finestra ed effettivamente atterra sui sacchi della spazzatura dovevano essere veramente tanti è per attutire il colpo però non saprei non glielo ho mai chiesto rimane tutta la notte nella spazzatura e la mattina dopo il camion della spazzatura che a Roma chiamiamo il monnezzaro quindi lo voglio dire con la parola con la quale mi è stato sempre raccontato arriva e carica tutto e lo porta al deposito della spazzatura che sta su via Salaria a Roma Roma Nord da quel momento però questa scelta di saltare dalla finestra e andare via con la spazzatura decreta che Lino è un disertore ufficialmente perché era stato schedato era stata presa le sue generalità e quindi se lui non si trova più la mattina dopo diventa automaticamente un disertore può essere catturato e ammazzato quindi uscendo dal deposito della spazzatura un po' ammaccato decide di unirsi ai partigiani dice io sono un disertore ormai qui non ci posso più rimanere metterei in pericolo la mia famiglia e quindi vado con i partigiani e si incammina verso le montagne che conosce meglio cioè quelle che vi ho detto prima sopra vicino a Matrice provincia di Rieti diciamo nel punto in cui confinano il Lazio l'Abruzzo e le Marche verso il paese dove lui passava l'estate comunque che era il paese della sua famiglia Canetra e più su insomma sulle montagne qui inizia ufficialmente la sua vita partigiana densa di ovviamente povertà perché dormivano come capitava mangiavano come capitava e o tanto spesso non mangiavano e anche di questo periodo mi ha raccontato un po' di di aneddoti che che fanno fanno insomma sorridere ad esempio una volta sono riusciti con la sua col suo gruppetto con la sua brigata a catturare un'istrice e l'hanno mangiato arrosto mio papà ha sempre detto speriamo che abbiano tolto prima le spine e un'altra volta sono riusciti a mangiare un asino perché hanno intercettato una caravana un gruppo che portava questo asino vecchio e macilento dovete immaginare non so un asino proprio di quelli che stanno per morire sostanzialmente lo portava allo zoo di città ducale provincia di rieti per darlo da mangiare al leone dello zoo un po' di schiafoni a quelli che guidavano la caravana e l'asino è diventato proprietà della brigata partigiana di mio nonno che l'ha diciamo spellato e l'ha cotto 15 ore raccontava mio nonno non so se aveva un po' romanzato la durata però insomma 15 ore dice la storia ma ecco queste erano situazioni in cui si poteva mangiare ma non era sempre così vi racconto un'altra cosa molto che per me è molto bella poi non so magari non è lo stesso per le altre persone alla mio nonno mangiava tutto cioè io non gli ho mai visto rifiutare niente perché ovviamente con il principio che aveva fatto la guerra e la povertà lui diceva sempre che non gli passava neanche per l'anticamera del cervello di dire questo cibo mi piace lo voglio quell'altro non lo voglio lui qualsiasi cosa tu gli metti nel piatto la mangia però c'era una sola cosa del panorama alimentare che non ha mai mangiato infatti noi non glielo mettevamo neanche nel piatto che sono le olive a me sembrava un po' strano perché uno che si mangia c'è listri c'è l'asino dopo le olive mi sembrano molto più accessibili e una volta glielo ho chiesto gli ho chiesto ma perché di tutto il panorama alimentare non mangi le olive e lui mi ha risposto che quando sei stato così povero e così disperato da mangiare le olive da olio quindi nemmeno quelle da tavola quelle da olio che sono amarissime direttamente dall'albero come era successo a lui quando stava con i partigiani dopo te le olive non le vuoi mangiare mai più perché ti ricordano di quanto sei stato povero e quanto sei stato disperato quindi lui di tutto ciò che mangiava le olive non le mangiava più perché si vede che gli facevano lo facevano soffrire gli facevano ricordare quel periodo chiusa parentesi dell'aneddoto delle olive in questa brigata partigiana conosce molti ragazzi con uno fa particolare amicizia che non era un membro della sua brigata ma lo conosceva perché in varie scorribande insomma i contatti tra brigata e partigiana l'ha conosciuto questo ragazzo si chiamava Enrico e teniamoci a mente il nome perché verso la fine della storia ci tornerà utile e in questo periodo appunto i partigiani facevano molte scorribande soprattutto in cerca di cibo io non gli ho mai chiesto esplicitamente se nelle sue varie scorribande abbia mai sparato e ammazzato qualcuno ma non glielo ho chiesto perché ero sicura che non me l'avrebbe detto perché credo che avesse idea che una risposta diversa da quella che mi aspettava avrebbe potuto in un certo senso minare la mia non so la mia ammirazione per lui l'affetto che avevo per lui cosa che sarebbe stata impossibile perché mio nonno è stato il più grande amore della mia vita e credo di poterlo dire tranquillamente in un podcast pubblico perché il mio marito se ne è fatto una ragione da anni e insomma la vita diciamo la vita partigiana è dura ed è molto difficile ed è stato anche molto difficile per me finché mio nonno è stato in vita quindi fino al 2021 estrarre informazioni su quel periodo perché evidentemente lui aveva una riservatezza su queste cose alcune cose me le ha raccontate con quelle che vi sto dicendo qui ma è praticamente tutto quello che so perché evidentemente erano cose che lo facevano anche soffrire poi nel 45 come ha ricordato giustamente Dacomo ci sono i vari momenti di liberazione quando sa che a Roma che Roma è stata liberata si incammina e prova a tornare a casa ci mette un bel po' è perché provate a farvela a piedi da cane tra Roma insomma non è che sia proprio insomma dalle montagne dall'Appennino Reatino a Roma non è proprio una passeggiata di salute il bello è che è tornato a casa a piedi e ha bussato la porta cioè non è che ha fatto un passaggio intermedio non so è andato da un suo amico a far avvertire la madre che non gli prendesse un infarto cioè è andato a casa e ha bussato alla porta come se niente fosse qui inizia la sua vita dopo la guerra considerate che fin qui sembra che vi ho narrato la vita di un 50enne ma nel 45 aveva 20 anni 20 anni e mezzo no? primo gennaio del 25 per finta tarda primavera inizio estate del 45 aveva 20 anni e mezzo quindi era un ragazzo e si è iscritto a ingegneria che però non ha portato a termine e adesso vi dico perché per chiudere la storia diciamo e poi nel 48 ha conosciuto a una festa una ragazza Renata mia nonna e l'ha conosciuta a una festa dove lui non ballava lui andava alle feste solo per mettere la puntina sul grammofono ed eventualmente riparare il grammofono qualora si rompesse nel corso della festa perché giustamente uno che fa ingegneria serve a quello e si sono sposati nel 1950 nel 1953 è nato il loro unico figlio Maurizio cioè mio papà e proprio nel 53 questa storia volge al termine perché proprio nel 53 Lino ha ricevuto una chiamata una chiamata una visita insomma non so se di persona o da remoto adesso vecchio compare partigiano Enrico quello che vi ho nominato prima che gli ha chiesto vuoi venire a lavorare con me cioè anzi più precisamente per me perché Enrico dopo la guerra aveva fatto un bel po' di fortuna perché aveva rilevato un'azienda che era stata fondata ai tempi del fascismo e in teoria aveva rilevato questa azienda con il ruolo di commissario liquidatore è un ruolo insomma molto pericoloso Giorgio Ambrosoli ne sa qualcosa teoricamente avrebbe dovuto liquidarla questa azienda però poi ha detto senti ma sai che c'è ma secondo me questa azienda può diventare florida e quindi io non la liquido per niente ma la faccio diventare qualcos'altro qualcosa di più di quello che era e questa azienda prima che la rilevasse Enrico si chiamava Agip e dopo si chiamava ente nazionale idrocarburi o Eni e Enrico l'ha guidata e resa grande fino alla sua morte che è avvenuta nel 1962 per un attacco di Namitardo all'aereo su cui viaggiava in provincia di Pavia che è crollato è caduto in provincia di Pavia quindi forse avrete capito che si chiamava questo ragazzo che era stato partigiano insieme a mio nonno si chiamava Enrico di nome e Mattei di cognome però questa è un'altra storia e allora ringrazio Elena per aver condiviso con noi questa testimonianza a tratti anche molto tenera e adesso entriamo un po' nel vivo di questa puntata perché io mi sono preparato anche qualche domanda da farti visto che insomma Elena come ho detto in apertura è anche una segnista di ricerca universitaria quindi qualcosina c'è da può raccontare sul fascismo e sulla liberazione italiana dal fascismo e allora quello da cui voglio iniziare entrando un po' più nello specifico su questo argomento è proprio questo da chi erano composte le brigate partigiane tu ovviamente ci hai portato l'esempio di tuo nonno che ci è arrivato in maniera un po' rocambolesca però proviamo a tracciare un profilo delle persone che si univano a queste a queste bande e quali erano i valori che spingevano tanti uomini e donne anche ad arruolarsi nella resistenza allora grazie per la domanda intanto allora diciamo che secondo me le brigate partigiane erano uniche e avevano diciamo una riconoscibilità proprio per via della loro eterogeneità cioè come ha fatto notare Giacomo prima si c'era ovviamente uno zoccolo duro che faceva diciamo così riferimento si appoggiava se fogliamo al partito comunista e quindi agli ideali del partito comunista però le brigate partigiane erano sostanzialmente gruppi di persone che si mettono insieme quindi si si consorziano si decidono di fare qualcosa insieme esprimendo un'unione che va oltre la diversità è chiaro nella piccola compagnia cioè nella tua nel tuo gruppetto di partigiani la devi pensare un po' allo stesso modo perché devi dormire insieme devi dormire nelle baracche stai tanto tempo senza mangiare devi combattere spalla spalla a volte fai diciamo così azioni di mini guerriglia quindi è chiaro che nel piccolo la devi pensare allo stesso modo altrimenti le energie vitali che ti servono per diciamo così portare avanti qualcosa di superiore le spenderesti a litigare con il tuo vicino perché la pensate diversamente no? quindi è chiaro è più economico però a livello corale come movimento diciamo pan italiano o globale se vogliamo le brigate erano proprio i partigiani erano proprio persone che decidono che qualcosa non va qualcosa di molto sostanziale non va nel mio paese e quindi io voglio unirmi a tante altre persone l'hai detto tu Michele all'inizio più di 200.000 persone voglio unirmi per far cambiare la situazione per rovesciare la situazione che mi sta opprimendo dopo cioè dopo che io ho fatto questa cosa ci sediamo a tavolino e decidiamo discutiamo del dopo del post quindi come sarà l'ordinamento del nuovo stato sarà una monarchia sarà una repubblica sarà destra sarà sinistra sarà un po' ci saranno tanti partiti ce ne saranno pochi questo lo discutiamo dopo prima io mi devo mettere insieme mi devo consorziare a prescindere dalle differenze per raggiungere uno scopo comune a tal punto che la canzone Bella Ciao anche se come ha ricordato Giacomo diciamo è una fake news però è una fake news fatta bene perché l'ultima riga l'ultimo verso della canzone dice questo è il fiore del partigiano morto per la libertà non dice morto per il comunismo o morto per la destra la sinistra il centro o morto per la monarchia o morto per la repubblica no dice morto per la libertà vuol dire che c'è una tensione a qualcosa che è di tutti di tutte le persone dopo ci mettiamo d'accordo su come declinare questa cosa qua ma finché noi non abbiamo raggiunto una situazione uno stato di cose in cui nessuno deve per citare Liliana Segre avere la colpa di essere nato cioè nessuno deve avere paura che per quello che è o per quello che pensa deve morire allora noi non possiamo discutere di niente questo è il motivo per cui questi sono i valori della resistenza antifascismo cioè no non per forza comunismo non per forza questa idea politica o non per forza quest'altra antifascismo prima di tutto e libertà dall'oppressione dopo ci mettiamo d'accordo per metterci d'accordo dobbiamo creare un agone politico cioè un terreno dove si discute entro dei limiti entro dei paletti e questo modo di discutere entro dei paletti ce lo dà la costituzione che non per niente è stata scritta da madri costituenti e padri costituenti di diverse idee non tutti votavano lo stesso partito semmai ce ne fosse stato uno sotto il fascismo no? per dimmi è diverso da De Gasperi tanto per dire e quindi diciamo che questa 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 somma di di valori questa questa attenzione a far qualcosa tutti insieme prima ancora che vedere quali sono le nostre differenze è motivo del fatto che io sono molto dispiaciuta e volevo dire un'altra parola ma non sarebbe educato quindi teniamo dispiaciuta quando sento dire che la resistenza è divisiva perché cioè la resistenza è il prototipo dell'unione a prescindere da come la pensiamo quindi chi dice che la resistenza è divisiva o non ha superato la scuola dell'obbligo oppure è in mala fede a volte le due cose possono convivere però cioè non è detto che sia una delle due possono essere anche insieme però cioè la resistenza non è divisiva è l'antitesi del concetto di divisione anzi è l'attenzione a un ideale comune ultima cosa che dico se no dopo parlo sempre io che io sono una linguista quindi mi occupo di parole quindi un po' di un po' di sbrodoloni sulla linguistica ve li dovete aspettare in questa puntata cioè se non vi va spegnete adesso che vi dico che il significato delle parole libertà e liberazione è in un certo senso complementare perché libertà è qualcosa di statico cioè io ho una libertà non so è un concetto ontologico tra virgolette la liberazione è un concetto dinamico cioè io sono in una situazione di oppressione e vengo tirata fuori o mi tiro fuori con le mie stesse mani per arrivare a non essere più sotto quell'oppressione e quindi a raggiungere il giardino della libertà quindi se io ho questa voglia di venire fuori da una situazione di oppressione per arrivare a una situazione di non oppressione di libertà e di convivenza delle idee diverse lo posso fare soltanto se non mi interessa o cerco di non farmi interessare come la pensa il mio vicino perché dobbiamo tendere a quella liberazione e ci servono le mani di tutti per scavare se siamo sotto terra dobbiamo uscire a respirare non mi interessa se quello che è vicino a me vota una cosa o un'altra o vuole la monarchia e la repubblica tutti devono scavare con la stessa forza finché non abbiamo messo la testa fuori quando abbiamo messo la testa fuori ne riparliamo allora Elena prendi un grande respiro perché sei veramente una mitragliatrice però volevo dire che sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto anche se ormai la parola assolutamente dobbiamo bandirla da questo podcast perché mi hanno fatto notare sul gruppo Telegram che ne abuso e mi chiedo scusa a questo punto però grazie per aver espresso comunque un punto di vista col quale io e sono sicuro anche Giacomo ci troviamo d'accordo è giusto dirlo che la resistenza non dovrebbe essere una cosa divisiva e adesso approfondiamo andiamo a capire anche perché la pensiamo così ma io voglio partire da alcuni episodi che voi sicuramente conoscete perché li ha raccontati il professor Barbero che ha fatto una bellissima bellissima conferenza sull'episodio di Via Rasella a Roma di questo reggimento altoatesino ovviamente che militava nelle fila tedesche che fu insomma sbaragliato da un gruppo di ragazzi poco più che ventenni tra le quali c'erano anche diverse donne e allora io voglio chiederti proprio ricordando questo episodio ma tanti altri in realtà che ruolo hanno avuto le donne e tu ce l'hai già iniziato ad accennare quando hai parlato di madri costituenti nella resistenza italiana intanto mi scuso per la velocità dell'eloquio e cercherò di parlare più lentamente quindi scusate se vi ho no ma io lo dico per te se vi ho martellato precedentemente dunque allora le donne nella resistenza sono un argomento che diciamo è molto molto studiato dal punto di vista della storia io credo che durante la guerra già nella prima guerra mondiale ma di più ancora nella seconda alle donne si è chiesto di fare tutto nel senso che ora quello che sto per dire è anacronistico rispetto a oggi no però catapultiamoci nella mentalità dell'epoca cioè alle donne è stato chiesto tra virgolette anche di fare gli uomini cioè di ricoprire tutti quei ruoli che gli uomini che se ne erano andati erano andati al fronte non potevano ricoprire quindi dovevano lavorare dovevano lavorare in fabbrica dovevano pensare all'educazione dei figli completamente da sole hanno avuto diciamo così un'inaudita non voglio dire potere ma un'inaudita spazio di autodeterminazione in un certo senso quindi se io vivo un periodo difficile di guerra di dittatura in cui ha una certa categoria umana in questo caso le donne si richiede di fare tutto io non posso pretendere che poi quando viene il momento tra virgolette clou le donne non partecipino e credo che le donne non l'avrebbero accettato quindi il motivo per cui ci sono donne ci sono state tante donne nella resistenza è stato che lo spazio di manovra che guadagnano le donne in una società assolutamente patriarcale come era quella italiana negli anni 30 40 50 in un momento di crisi come la guerra poi non può essere non può essere ignorato in un momento ancora più di crisi come può essere quello della liberazione del fascismo e quindi della resistenza quindi l'esperienza della resistenza a mio parere ha fatto dire alle donne ok quando ti faceva comodo che io facessi tutto e che io portassi sulle mie spalle la società andava bene ora devo stare a casa a fare la calzetta neanche per idea la resistenza è tua quanto mia quindi diciamo il paese è di tutte le persone che lo abitano e quindi tutte le persone che lo abitano o tutte quelle che se la sentono o tutte quelle che ci credono vedete a voi come fare il raggruppamento devono poterlo poter lottare se lo vogliono fare infatti non per niente l'ho detta prima questa questa parola ma la ridico no per niente in Italia quando si è trattato di dover scrivere la costituzione abbiamo avuto padri costituenti ma anche madri costituenti cioè anche le donne hanno partecipato alla redazione della carta costituzionale il che significa che all'interno del nuovo stato che sorgeva dalle ceneri di quello vecchio le donne avevano un ruolo che prima non avevano avuto ma se lo erano tra virgolette guadagnato sul campo perché le donne sono state parte attiva della resistenza poi è ovvio ce ne sono state alcune con in braccio il fucile ce ne sono state alcune che non hanno sparato neanche a un capretto magari hanno fatto altri tipi di attività di coordinamento oppure di staffetta molto spesso con le biciclette no o a piedi sulle montagne eccetera però questo non vuol dire che non sono state protagonisti cioè sono state assolutamente protagonisti allo stesso livello alla stessa altezza degli uomini d'accordo allora proviamo a interare un po' più in profondità sul tema che abbiamo iniziato a raccontare prima cioè sull'importanza della della resistenza allora voglio parlare dell'elefante nella stanza cioè dal punto di vista militare quello che in molti contestano e che si chiedono è se si possa dire che la resistenza abbia giocato un ruolo determinante un ruolo più che essenziale nella liberazione dell'Italia dal nazifascismo c'è chi dice di no e allora voglio sentire la tua opinione su questo e poi voglio sapere se poi dal punto anzi dal punto di vista politico quale invece effetto determinante ha avuto la resistenza italiana negli anni successivi allora premettendo che non sono un'esperta di storia militare quindi perdonatemi se dico qualche inesattezza però quello che io ho sempre diciamo appreso vivendo con una persona vivendo a stretto contatto letteralmente perché io e mio nonno eravamo vicini di casa vivendo con una persona che ha fatto quel tipo di percorso ha fatto quel tipo di esperienza è che il momento della resistenza è stato un momento in cui diciamo così la militarizzazione era totale cioè non c'era più un vero confine tra persona che nella sua vita fa il militare quindi milita nell'esercito combatte quello quell'altro e dall'altro lato persona civile che fa tutt'altro lavoro ma è stata una militarizzazione generale cioè poteva succedere che imbracciasse il fucile appunto chiunque cioè anche chi non non l'aveva mai imbracciato perché perché magari in quel momento era necessario perché in quel momento si sentiva sotto pericolo oppure perché stavano minacciando la sua famiglia quindi diciamo così in un contesto in cui tutto è militare se vogliamo tutto è militarizzato alla fine niente è militarizzato no perché cioè è come dire sottolino tutta la pagina alla fine è come se non ho sottolineato niente no quando studio stessa cosa se tutti possiamo portare un'arma allora non vale più l'addestramento militare o fare il militare di professione cioè io cammino per la strada e mi potrebbero tranquillamente sparare quindi è chiaro che in un contesto del genere si attivano situazioni e si attivano processi che non sono gli stessi che si attivano in tempo di pace e allora quindi è chiaro che potresti morire molto più facilmente perché ti potrebbe sparare chiunque anche uno che ti ha sparato per sbaglio perché non sa maneggiare un'arma questo comporta che in quel periodo lì le persone che hanno fatto questo tipo di esperienza sono andate incontro a un diciamo così a una continuità comportamentale non tutta liscia non è che hanno fatto sempre tutti la stessa cosa ma fatta di luci e ombre quindi l'esperienza della resistenza ecco un'altra delle cose che sento dire spesso insieme a quella che la resistenza è divisiva è che ci sono le fazioni tipo quando gioca una partita di calcio cioè ci sono quelli che dicono i partigiani erano criminali perché sparavano dappertutto e ci sono le persone che dicono no i partigiani hanno fatto bene sparare a chiunque anzi ne hanno colti anche pochi allora cioè una lettura del genere di qualsiasi evento storico ora lasciamo perdere che è la resistenza ma cioè dare una lettura da tifo da stadio di un evento storico è sempre il dilemma di prima o non hai superato la scuola dell'obbligo o sei in mala fede perché è chiaro che quando c'è un contesto militarizzato tutti sparano e potresti morire ma è chiaro che i partigiani non sono stati tutti santi e non penso che nessun papa abbia mai voluto fare un processo di beatificazione per direttissima è chiaro dall'altro lato che quando c'è una situazione di di disastro di disperazione come quella si possono commettere azioni anche delle quali ci pentiremmo che con quei tempi di pace non abbiamo cioè non avremmo mai fatto ecco perché come ti dicevo prima non ho mai chiesto a mio nonno se ha sparato qualcuno perché forse non volevo sapere la risposta però ti fa capire quanto diciamo così quando un intero popolo è disperato questo ci dovrebbe aiutare a leggere anche gli eventi più contemporanei più vicini a noi quando un intero popolo è disperato ed è disposto a tutto per cambiare le carte in tavola di ciò che ha di ciò che sta vivendo il concetto di militare un po' traballa cioè non è chiarissimo come nei tempi di pace seconda parte della domanda dal punto di vista politico assolutamente l'esperienza della resistenza è ha cambiato le carte in tavola quello sì dal punto di vista politico perché la successiva politica della neonata repubblica italiana è stata assolutamente intresa di esperienza della resistenza e di persone che l'avevano fatta veramente e anche non necessariamente la politica guarda l'esempio di mio nonno e di Errico Mattei anche l'industria cioè tanti tanti aspetti tanti ambiti della nostra società sono stati fortissimamente condizionati dall'esperienza della resistenza e diciamo anche sono stati anche plasmati da questa esperienza cioè io sono sicura che se alcuni padri costituenti cioè se i padri costituenti e le madri costituenti non fossero state persone che provenivano dall'esperienza della resistenza probabilmente la nostra costituzione sarebbe stata scritta in modo diverso ok quindi assolutamente ecco torna alla linguista assolutamente la resistenza e la liberazione hanno avuto un ruolo sia militare come dicevamo prima ma anche politico nel dipendere trazzare la storia dell'Italia successiva di quella che poi conosciamo con il termine di prima repubblica certo certo anche nel riposizionare l'Italia nello scacchiere europeo mondiale verso un mondo occidentale che si contrapponeva sempre di più a un mondo sovietico quindi l'Italia in quegli anni è stata come poi si vedrà nella guerra fredda e con tutto il terrorismo politico che noi abbiamo subito a partire dalla fine dell'anno 60 con Piazza Fontana in poi al centro di questa contesa quindi sicuramente dal punto di vista politico io credo che avere una resistenza così forte e così strenua in Italia indipendentemente dal fatto che abbia inciso o meno militarmente sia comunque stato estremamente significativo nel posizionarci poi non dico sul tavolo dei vincitori ma comunque come alleati del blocco atlantico perché insomma questo non è da dare per scontato e ripeto vi rimando alla puntata del podcast del professor Barbero che lo racconta mille volte meglio di come potremmo farlo noi e appunto rimanendo in tema di consigli io vorrei tornare per un attimo dal nostro Giacomo per sapere quali sono i film e i documentari immagino ce ne siano tantissimi da vedere per approfondire questo argomento caro mio a questo giro ho scelto solamente film perché allora come racconti in maniera strabiliante il cinema o meglio questo periodo attraverso il cinema attraverso un genere che in Italia al giorno d'oggi viene criticato per una mera questione di estetica ma che ha fatto scuola è innegabile che abbia fatto scuola ovvero il neorealismo sua maestà il neorealismo basti pensare che il film italiano più successo che ha avuto più successo all'estero probabilmente di sempre forse escludendo vita è bella grande bellezza addirittura accolto con una standing ovation e infatti è nei miei consigli di oggi e c'è ancora domani di Paola Cortellese che riprende il neorealismo in un certo senso e soprattutto nel bianco e nero vedetelo è su Netflix parla del 1946 del referendum ma è meraviglioso veramente un film straordinario mentre per quanto riguarda i miei consigli sua maestà Roberto Rossiglini tra il 45 e il 46 ha messo insieme due piccoli capolavori del cinema italiano leggeri quasi sconosciuti nel 46 c'è Paesà che è la seconda pellicola della trilogia della guerra antifascista dove ci sono diverse storie che si riuniscono un po' come quella che abbiamo raccontato all'inizio di Enrico Enzo scusatemi Emilio Enzo e il primo è il film italiano secondo me se escludiamo c'era una volta in America che è Roma città aperta secondo me uno dei film più belli che siano mai stati fatti nella storia del cinema scusate io un amore particolare per Rossiglini che tra l'altro era il regista preferito di mio nonno che mi ha avviato diciamo all'amore per il cinema 1974 Carlo Lizzani che secondo me ha raccolto sempre meno di quello che ha dato al cinema italiano soprattutto perché era il più americano degli italiani meno che nella parte narrativa dove era perfettamente italiano ma non italiano la Stanis La Rochelle di Boris che Mussolini ultimo atto che è un racconto meraviglioso che voi siate fascisti o antifascisti dove fa rivivere gli ultimi momenti di Benito Mussolini con un racconto che va dal 24 aprile del 45 a Milano dove lui rifiuta la mediazione del cardinale Schuster fino al 28 aprile storico quando insieme a Claretta Petacci viene ucciso dal mitra del colonnello Valerio poi abbiamo la notte di San Lorenzo abbiamo nominato prima il 1982 quindi non potevamo che prendere uno dei film più belli di quell'anno dove nel paese di San Miniato una parte della popolazione nell'agosto del 44 decide di fuggire dei tedeschi è un film dei fratelli tabiani quindi aspettatevi lacrime e chiudo con due perle secondo me una del 2000 e una del 2020 comunque dei nostri anni una è il partigiano Johnny di Guido Chiesa persona che ho conosciuto è davvero una bellissima persona che tratta dal romanzo di Beppe Fenoglio che vi consiglio anche di leggere che si chiama appunto il partigiano Johnny dove questo giovane intellettuale universitario di famiglia borghese decide di aderire alla resistenza nelle langhe è molto molto bello l'altro è una serie di immagini mute che raccontano più dell'audio se volessi fare diciamo la didascalia la quarta di copertina di questo film che è The Forgotten Front la resistenza a Bologna che parla tutti sappiamo dello stampo sinistroide di Bologna città meravigliosa parla proprio della più grande città del nord Italia su ovviamente la linea del fronte e di come abbia vissuto Bologna quei giorni attraverso delle immagini di archivio che veramente vi prendono lo stomaco e allora io vado a ringraziare il nostro Giacomo Giacquinto grazie a voi siamo ovviamente in conclusione di questa puntata e allora voglio ringraziare la nostra Elena Pepponi per essere stata con noi ma soprattutto Elena non ci lasciare perché abbiamo ancora tante cose da dirci nella puntata bonus io voglio parlare ancora con te di fascismo di neofascismo quindi torniamo ai nostri giorni e capiamo quello che sta succedendo insomma anche in Italia ma non solo in Germania e in altri paesi alle nostre democrazie cosa avviene insomma e quindi seguiteci nella puntata di Patreon se volete saperne di più e noi con tutti gli altri ci rivediamo ovviamente mercoledì prossimo ma ricordatevi che se volete supportarci potete farlo in diversi modi potete iscrivervi come dicevo prima al costo di un caffè che offrite a me già come ogni mese al nostro canale Patreon esatto esatto grazie mille oppure se non avete la disponibilità economica per insomma supportarci economicamente potete farlo anche gratuitamente lasciandoci una recensione se ci ascoltate su Spotify con le 5 stelline famose ormai oppure su Apple Podcast andando a scrivere proprio un breve commento allora torno da Giacomo per sapere se lui ha qualche recensione che vuole leggere oggi io me ne sono preparata una quella di Mr vado quella di Mr MV che ci dice fa riflettere ogni settimana un argomento molto interessante la parte di Giacomo struggente invece quella di Michele ti fa pensare coppia molto ben assortita allora Giacomo convoliamo a nozze convoliamo assolutamente a nozze caro mio perché ce n'è una bellissima grazie siete tenerissimi io vi amo vi vorrei abbracciare vi vorrei baciare e via dicendo che è di Mercheopi che dice podcast in una marcia in più 5 stelle davvero coinvolgente voci, narranti e dialettica sempre on top grazie 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 mille invece dei soliti insulti che belli leggere dei commenti positivi sapere che vi facciamo compagnia nelle vostre giornate e questa per me perché nella vita mai avrei pensato di poter far compagnia degli esseri viventi caro Michele invece guarda che è successo dai allora prendiamoci per mano e prendiamo per mano anche Elena che ripeto torno a ringraziare per aver condiviso questa storia con noi grazie a voi per l'invito è stato bellissimo parlare con voi e spero che vi sia piaciuta la mia storia familiare molto moltissimo Elena e allora resta con noi torniamo subito nella puntata Patreon venite a seguirci lì perché abbiamo ancora tantissimo da raccontarvi con tutti gli altri ci sentiamo sempre qui alla stessa ora lo stesso giorno ma nel frattempo vi ricordo di non spegnere la luce grazie a tutti grazie a tutti